Grazie a tutti. Parliamo della questione che ha tenuto banco in questi giorni, cioè quella del dimensionamento scolastico del vostro istituto. Ieri la Regione Puglia ha deciso in merito che l'alberghiero di San Giovanni Rotondo rimane nella città di San Pio, ci sarà solo una sezione staccata a Manfredonia. Secondo il suo punto di vista è stata una decisione saggia quella adottata dall'Alba Sasso. Allora io ritengo che la decisione dell'onorevole dell'assessore Alba Sasso sia una decisione corretta per un motivo molto semplice perché l'assessore ha fatto una scelta ben precisa. Non ha dato all'Etticitoniolo le classi che poteva dare a Manfredonia ma ha deciso di dare a noi delle classi e quindi creare una sezione staccata presso una sede di Manfredonia. Io penso che abbia fatto una scelta equilibrata perché ha mantenuto a San Giovanni l'opportunità di far continuare questa attività e quindi salvaguardando anche l'organico del personale ATA, del personale docente. Ma anche ha dato la possibilità a noi di crescere in un altro comune perché nella nostra scuola vengono circa 200-230 ragazzi di Manfredonia. Quindi in questo modo ha conciliato sia la necessità di questi ragazzi di avere sul proprio territorio una scuola e nel contempo ha permesso a noi di continuare a crescere sul territorio. Dando appunto a noi la possibilità di poter continuare un discorso che è già attivato da diversi anni sul territorio. Quindi ritengo che questa scelta sia abbastanza equilibrata e giusta dal punto di vista di scelte politiche sul territorio. Ecco Presidente, quindi in merito alle polemiche che sono uscite in questi giorni non c'è stato nessuno scippo da parte della regione Puglia a San Giovanni Rotondo in quanto l'istituto rimane con una propria autonomia. Certamente l'istituto resta con la propria autonomia ed ha come ha detto l'assessore la possibilità di poter crescere perché noi attualmente siamo intorno ai 600-620 alunni. Sono pochi per continuare a mantenere un'autonomia. Con la sede staccata di Manfredonia noi abbiamo la possibilità di portarci a 800-900 come prescrive la normativa.